Io non è che fossi un miliardario, ero semplicemente un piccolo imprenditore che aveva una casa come quella che si vede, è una casa normalissima, una persona normale che ha lavorato tutta una vita per costruirsi queste quattro mura che adesso perderò e poi non so cosa sarà della mia vita, è per questo che ormai sono disposto a tutto per difendere quello che ho costruito, più di vent'anni di lavoro, non stiamo parlando di persone ricche, miliardari che posseggono case, stiamo parlando di persone semplici che hanno lavorato normalmente tutta la vita e tutto questo andrà distrutto. Ciao agli amici del blog di Beppe Grillo, io mi chiamo Marcello Di Finizio e sono un concessionario balneare. Cercherò di spiegarvi il più chiaramente possibile che cos'è questa famigerata direttiva Bolkestein, che cosa sta succedendo alle piccole e medie imprese balneari italiane. Sembra incredibile che ancora oggi, a distanza di così tanti anni, perché stiamo parlando del 2006 quando la direttiva Bolkestein è stata recepita dal governo italiano, il quale chi in malafede, chi in buonafede a destra e a sinistra hanno gestito in maniera scellerata questa direttiva. Tanto è vero che a tutt'oggi noi stiamo in una fase di stallo totale su quello che sarà il futuro delle nostre imprese. E mettere in stallo un'attività produttiva di questo tipo, così importante, stiamo parlando di imprese turistico balneare, completamente ingessate da anni e da anni non hanno più la certezza del diritto, quindi non possono più sviluppare le proprie aziende, non possono più assumere, non possono più andare in banca a chiedere dei soldi e quindi è stato tutto paralizzato. Questo modus operandi di paralizzare, ingessare tutto è un sistema che ha portato l'Italia a quello che sta succedendo oggi. Non fare è l'arma migliore per distruggere. Intanto ci hanno tolto la certezza del diritto, cioè il rinnovo automatico dei 6 anni più 6 che ci era stato dato in base alla legge 88 del 2001, che ci garantiva i nostri investimenti. Il governo ci aveva dato una garanzia di permanenza in queste aziende, noi siamo andati in banca e abbiamo fatto i nostri investimenti. Però sta di fatto e come se dopo che l'imprenditore ha fatto la sua azienda, che funziona, che dà lavoro, che produce reddito, a un certo punto il padrone immunale dice all'affettuario, senti sai cosa ti dico? Da domani te ne vai a casa. Cioè questo vuol dire mandare in disgrazia quell'imprenditore. Queste sono regole talmente banali di buonsenso che nel caso del privato l'imprenditore va da un giudice e chiede giustizia. Nel caso dello Stato ne urliamo giustizia senza trovare voce. Siamo un comparto produttivo importantissimo del Paese perché ci occupiamo di turismo balneare. Io spero che anche attraverso il Movimento 5 Stelle si possa trovare un modo di ragionare insieme sulla questione per poter salvare le piccole e medie imprese, metterle in sicurezza e isolare appunto quei casi dove sono stati fatti degli abusi e delle scelerate a cementificazioni. Insomma là dove si può agire si agisca. Il pericolo è che si faccia tutto in armofascio. Allora intanto noi non vorremmo essere paragonati a dei litorali che ormai sono famosi del Lazio oppure a gente tipo Briatore che sono dei casi, non sono la norma. La norma è che noi siamo delle piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, che hanno fatto sacrifici, debiti. Nel mio caso si stanno portando via la casa, quello che resta della mia azienda e io domani avrò un timbro di fallimento sulla schiena dopo oltre 20 anni di lavoro, di serio lavoro e sarò destinato ad andare a dormire sotto un ponte. Questa è la realtà e questo non è accettabile. E se io avessi compiuto degli illeciti, degli abusi o fallissi per incapacità, me ne farei anche una ragione, ma io ho sempre lavorato regolarmente, ho fatto l'imprenditore, l'ho fatto seriamente, non ho mai avuto problemi in tutta la mia vita di nessun genere, di qualunque tipo. Era un'azienda sana, produttiva, dava lavoro a 15 dipendenti e oggi mi ritrovo a non avere più niente in mano, di non avere più neanche la possibilità di recuperare la mia azienda, ma non solo, con l'aggravante che mi troverò in mezzo alla strada. E questo sfido a chiunque, sfido a chiunque di pensare se questa sia una cosa accettabile e giusta. Il pericolo di questa direttiva a Bolkistan per le piccole imprese balneari è il fatto che al 2015 le concessioni dei maniali dovrebbero essere tutte in scadenza e quindi i vecchi concessionari si ritroverebbero ad andare in bando di gara internazionale, attenzione, e questa è una cosa terribile, si ritroverebbero a gareggiare con colossi multinazionali, banche, holding finanziare che potrebbero accaparrarsi le zone più belle d'Italia e chiaramente noi piccoli imprenditori non avremo mai la forza di contrastare questi colossi. L'enorme paura della cementificazione sarebbe sì conclamato perché a differenza di noi le multinazionali quando si insediano incominceranno a cementificare sceleratamente perché loro, della certezza del diritto, non hanno bisogno perché una volta che si insediano banche, mafie e multinazionali il diritto se lo fanno da soli. Tutto con voglia alla fine lì, la grande Europa delle multinazionali e la grande Europa del liberismo, ma liberismo perché? Non certo per gli italiani, tutte le attività, tutti i settori sociali produttivi di questo paese devono sottostare ai dicta perentori di questa Europa delle banche e delle multinazionali che arriveranno qui come una piovra. Tutto assomiglierà a un grande McDonald's, assettico, tutti uguali, senza storie, senza radici, senza passione, nella migliore delle ipotesi. Se non addirittura là dove avranno la possibilità di fare faranno dei posti elitari, esclusivi, inaccessibili accessibili alle masse per i loro amici miliardari e questo è quello che sarà del nostro paese. Per cui vi esorto a non semplificare questo argomento, è un argomento serissimo, è delicatissimo, è una parte della nostra storia, della nostra cultura che anche questa andrà persa, come tutto il resto. Grazie.